L'espressione del peccato. Diamo uno sguardo ai peccati della nostra epoca. Terrorismo, traffico di armi, droga, sfruttamento dei paesi poveri, violenza sui minori, pornografia, corruzione politica, evasione fiscale, inquinamento ambiente. Il peccato è sempre un'interruzione di un rapporto d'amore tra Dio e l'uomo. Spero che l'elenco che ho portato non abbia dato fastidio a qualcuno, però è pur necessario che diciamo le cose come sono. Dalla Sagra Scrittura altre specificazioni di manifestazioni di peccato, bestemme, spergiuri, oltraggio ai genitori, traffico di persone, tradimento e chi più ne sa più ne metta. È compito di tutti confrontare la propria coscienza con la parola di Dio trasmessa ed interpretata dalla Chiesa. Salvati dall'amore misericordioso, Dio ama i peccatori prima ancora della conversione. La sua misericordia supera il peccato, abbatte l'orgoglio e la presunzione e solleva dallo scoraggiamento e dalla disperazione. Le parabole della pecorella smasita del figlio prodigo indicano con chiarezza la volontà di perdonarci. San Paolo scrive, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. Quindi prima della sua azione ha pensato alla nostra redenzione. L'uomo da solo non riuscirebbe mai a liberarsi dal peccato. Lo Spirito Santo lo raggiunge con la sua forza e lo guida sulla via del ritorno. Tutto però si spiega se da parte dell'uomo c'è un minimo di buona volontà di accettare il perdono da parte di Dio. Va tutto a nostra gioia e a nostra salvezza. Grazie a tutti.